Emilia e Marta sono così diverse per età e genere di vita, ma ho un consiglio di stile per tutte e due, una bella borsetta super colorata. Si dividono in due grandi categorie le donne, quelle che non sanno resistere a un paio di scarte e quelle che amano alla follia le borse. Io mi iscrivo alla seconda specie, sentendomi per di più giustificata da un libro, 50 borse che hanno cambiato il mondo, di Robert Anderson. Una vera e propria operazione psicoanalitica, solo che sul lettino non ci sono le signore, ma le borsette. Quello che non dice è il fascino nuovo della borsetta coloratissima, che fa sembrare i neri, blu, beige, il segno smunto di un periodo passato. La borsa oggi può essere arancio, verde, lilla, turchese, rosso ciliegia. Toni spiazzanti, usati per creare un effetto spiazzante, secondo quello che viene definito color block, un termine derivato dall'arte. Niente viene più coordinato, tutto si oppone, con beige e bianco il turchese, con rosa e nero il viola e via azzardando. Basta una borsa full color per cambiare lo stile e l'umore. Basta una borsa full color per cambiare lo stile e l'umore.